buongiorno amici adesso è un po di tempo che non faccio questo tipo di pane pane 10 cereali con la farina del molino cipolla quindi seguitemi in questo nuovo video eccoci pronti per fare questo questo pane questo pane ai 10 cereali con la farina del molino cipolla allora ho rinfrescato la pasta madre ne ho tenuto un pezzetto e adesso al raddoppio la uso per fare l'impasto la metto direttamente in planetaria non faccio autolisi in questo caso e sciolgo la pasta madre direttamente nella ciotola vedete com'è bella la farina piena di semi oltre alla zero c'è il farro c'è la farina di mais l'avena farina di orzo segale semola rimacinata come dicevo e poi ci sono semi di sesamo crusca fiocchi e 5 cereali e semi di lino ok una volta sciolta la pasta madre continuo a mettere acqua naturalmente poi vado a girare in planetaria faccio ancora assorbire un po di acqua in questo modo come vedete dalla dose che ho messo non non assorbe molta acqua quindi non messa meno di del solito un'idratazione diciamo che un'idratazione media faccio girare e aggiungo mano a mano l'acqua poi metto anche il sale e giro fino a che non si arrotola al gancio diciamo che è incordato con tutti questi semi è difficile non farlo incordare quindi mi aiuto poi con le pieghe in ciotola ecco qua la ciotola è oliata farò due giri di pieghe due giri di pieghe e poi copro e lo metto a evitare le solite 4 5 ore dipende sempre dalla temperatura non mi stanco mai di ripeterlo ok lo copro e lo lascio ed ecco il risultato dopo all'incirca 4 ore aumentato di volume ora vado come al solito girarlo sul piano di lavoro eccolo qua ci metto appena un po di farina buonissima e qui comincio a fare dei giri di pieghe quindi ancora pieghe questo per dare più forza all'impasto e quindi al pane ecco qua allargo un pochino e faccio le classiche pieghe a tre come dicevo sopra questa farina l'ho presa direttamente al molino cipolla sono andata direttamente giù senza ordinarla online ho fatto una passeggiata a terracina c'era un bel sole e mi ha fatto piacere parlare di nuovo con antonio cipolla anche con il fratello sono molto cortesi e simpatici da dove so io diciamo sono quasi 60 chilometri però una passeggiata l'ho fatta volentieri altrimenti potete ordinare tranquillamente la farina online ok faccio l'ultimo giro di pieghe questo impasto profuma già adesso con tutti questi semini questi cereali prima di cuocerlo immaginate dopo bene bene finito l'ultimo giro di pieghe vado a formare il filone quindi procedo in questo modo poi voi se volete fate come al solito come siete abituati a fare io questa volta lo faccio così farò un filone un po cicciotto ecco qua premo leggermente piego ancora chiudo così ok e questo serve dare sostegno all'impasto ecco qua come vedete non è una pagnotta né un filone un filone cicciotto diciamo viene fuori un bel filone cicciotto quindi userò il cestino quello un pochino più piccolo e alto questo ai bordi un pochino più alti così fa crescere in altezza il pane durante la lievitazione ci metto la semola ma al solito ecco qua la chiusura dovrebbe andare sopra così poi quando ribaltiamo va sotto adesso lo copro lo copro con un telo ci metto ancora ecco ci metto un po' di grusca guardate così per dare un tono più casareccio di questo a questo pane lo copro e lo lascio lo lascio lievitare aspetto che si confighi e raddoppi un pochino allora ci controlliamo la lievitazione dopo qualche ora dopo due tre ore se rimane infossato e non torna su non torna su e siamo al punto giusto e qui diciamo che si sta tornando su quindi può stare ancora un pochino lo tengo ancora ma il tempo di far scaldare bene il forno quindi una volta portato a temperatura il forno me lo preparo il forno a 250 come al solito qui ci metto un po' di semola così mi scivola bene quando vado a far cadere sulla teglia infuocata io faccio così ormai mi sono abituata così la pietra non la uso proprio anche perché la pietra prevede un consumo un po' eccessivo di corrente per farla scaldare bene ci vuole più tempo quindi se vogliamo economizzare un pochino io procedo in questo modo ecco la teglia dentro il forno si scalda bene il cane il pane viene bene comunque faccio un semplice taglio così così vedete ben sostenuto l'impasto e se fosse passato di lievitazione si accascerebbe invece rimane bello sostenuto quindi la lievitazione dovrebbe essere perfetta poi lo vediamo in cottura ok ho fatto scivolare forno a 250 il timer l'ho messo a 50 minuti poi abbassato gradualmente dopo 20 minuti abbassato 220 poi ancora 200 e ultimi 10 minuti a spiffero poi ve lo scrivo eccolo qua direi che il risultato è molto molto bello lo metto su una gratella così mi si raffredda prima di tagliarlo infatti il pane non va tagliato mai caldo anche se ci facciamo sempre prendere la mano e non ci va di aspettare come a me adesso beh ragazzi che dire è profumatissimo veramente buono bello guardate gli alveoli giusti direi che è venuto molto bene adesso l'assaggio subito perché questo pane è assaporitissimo di un buono veramente ve lo consiglio vi consiglio vivamente questa farina e vi ringrazio della visione spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto naturalmente condividetelo amici questo ve lo chiedo gentilmente di condividere i miei video e naturalmente lasciare un like ciao a tutti e ci vediamo presto ciao ciao ciao